Allora ragazzi, vi vogliamo carichi per affrontare questa bella lezione di baciata. Sono sicura che già siete pronti. Mettiamo una musica per fare un po' di risparmamento. Lo facciamo tutti quanti insieme, ok? Mi raccomando, pronti per ballare! Ok, vamo adesso con la base. Preparate? Vamos! Piano, piano, despacito. Hacciamo un quadrato. Let's go! E ora, abri chiudere, 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 abri chiud marcando l'attra e marcando l'alante sufficio facciamo il bacino sempre l'alante macino cadera, cadera cadera, cadera giro, giro, giro giro, giro, giro facciamo giro, giro giro slide eso, vamos e ora, marcando l'attra e marcando l'attra e marcando l'attra e cala Grazie a tutti, grazie, è un grande plazzo stare con voi, di casa per voi, di casa per voi. Ok ragazzi, iniziamo con la figura, facile, facile, in italiano, facilissimo. Iniziamo con una figura di basciata moderna, tocchiamo un po' tutti gli stili di basciata, figurata, e iniziamo, va bene ragazzi? Iniziamo con il basico, parecchi preparati, copie, pronte, andiamo con il basico, 3, 4, 5, 7, 8, 1, 3, 4, 5, mi alentano, 1, 5. Allora è importante ragazzi, ricominciamo da capo, piano piano lo faccio a base ok? Quando l'uomo deve allontanarsi dalla dama è sempre importante non perdere il contatto con la donna ok? Quindi si scivora lentamente e si accarezza il palmo della mano ok? E' sempre importante preparare bene il giro della donna ok? Per far girare la dama ragazzi. Bene, 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 1, 2, 3, 4, ora, 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 ora che abbraccio la chicca qui e tengo questa volta qui ok? mi muovo da sola un attimino ci faccio vedere alle ragazze il giro che dobbiamo fare ragazzi facciamo un basico l'uomo ci chiede di girare ci prepariamo nel giro già stiamo con la sperma il piede per girare e da qui facciamo un giro su noi stesse giro, giro giro, giro e qua ok? in pareja facciamo una figura molto facile per il socio per che tu balli e gozi con la chica ok? e uno, due, tre quattro, cinque, sei si va uno, due, preparo cinque, sei, siete ocho ocho, sempre qui ok? con il piede che marca qui, ocho altra vez iniziamo dal principio basico basico due, tre, quattro, cinque, sei siete si va uno, due, tre quattro, cinque, sei let's go uno, due, tre tre, quattro, cinque, sei siete ocho mi viene in mente di fare quindi che cosa succede? che l'uomo prepara il giro io lo guardo guardo il mio giro e seguo con lo sguardo la direzione di dove vuole andare il mio ballerino ok? claro con il mio comando ok? mira, mira bene mira bene questa mano che sto assim non la prendo assim no assim, tranquillo ok? e finalizziamo siete ocho qui sta ora ora facciamolo dall'altra parte forse è meglio così guardano anche ragazzi lo facciamo dall'altra parte ok? giriamo cambialato cambialato yes ok? pronti? basico basico 2 3 4 5 6 si va 1 2 preparo 5 6 7 8 ok? notate il mio giro come è stato? guardate bene il braccio di Tocci dov'è? mi scivola all'estremità della spalla tocca il mio avambraccio e questa mano già è messa in una posizione che mi permette di capire camminando che devo girare di nuovo guardate un po' quindi c'è uno spostamento laterale di un giro di un abbraccio ok? la mano rimane sempre sopra la spalla di nuovo ok? allora da questa parte tutto di nuovo attraverso è tutto chiaro? 3 4 5 6 7 8 1 2 13 4 ok? preparation preparazione preparazione ok? ok? guardatevi la musica ok? guardatevi con il cuore con il sentimento ok? mi allontano e va? guardatevi con il sentimento Ok, per esempio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cammino, 1, 2, 3, 4, ora mismo la mujer quasi camina sola, ok? L'uomo tiene tempo qui, per esempio, 5, 6, 7, 8, otra vez in torno, per qui tutti, 5, 6, 7, 8. Importante è sempre caricare, che la gente non carica, tutto, vai, mentre io faccio la figura, Barbara parla, 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 facciamo un basico ragazzi, si va con la preparazione del giro, gira la dama, invita a girarla di nuovo, qui è importante per la donna fare un 5, 6 camminato in avanti, direzione, Senza io, solo ella, passo sempre da 3, sono educato, non avanti, vai. Ragazzi, stiamo qua, ok? L'uomo ci tende a far uscire dalla figura, ok? Che cosa facciamo noi? Cammino, 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 solo qui di giro, giro, preparo, chiudendo il sedia, ok? Di nuovo. Stiamo qui, destro indietro, sinistro avanti, cammino sul 5 e faccio 6 e 5, 6, 7, apro, autogiudo. Ok? Vamos, vamos, todo il tempo sta girando, è molto poco oggi, 30 minuti, vamos, basico, 5, 6, va, 1, giro, 5, 6, 7, 8. Ok? 8. Ora, 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 ora sarà questo, con un solo uno, uno dei l'hombre sarà al contrario, sarà uno, due, tre, quattro, poi dentro, altra vez, cinque, sei, siete, ocho, quindi, guarda bene, uno può entrare, esempio, per esempio, tutti gli uombre è così, uno può entrare, uno, due, tre, e quattro, ora, avanti, cinque, sei, siete, ocho, ok, va bene bene, la parella è meglio per che il l'hombre entienda meglio, ok, va bene, quindi, uno, due, parella, parella, copia, let's go, on va, uno, cinque, uno, ok, ora, uno, due, tre, e quattro, mira, altra vez, ragazzi avete notato che per la donna non c'è alcuna difficoltà, dobbiamo solo seguire il passo dell'uomo, ok, e vamos, uno, due, tre, cinque, sei, siete, uno, due, tre, cinque, sei, siete, uno, due, tre, se lo torna dietro, sono qui, sto qui, ok, e uno, due, tre, e ora giro dentro, cinque, sei, siete, in questo momento è, guardate, si sgancia dalla mano della donna destra, e va con il gomito sotto il mio braccio, ok, ok, vamos, otra vez, todo, 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 al principio, uno, dos, tre, cinque, sei, siete, uno, due, tre, cinque, sei, gira l'ombre, uno, due, tre, dentro, cinque, sei, siete, è importante che la donna rimanga con il braccio steso, steso e leggermente un braccio steso, ok, facciamo tutto, 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 cinque, sei, si va, uno, due, tre, cinque, sei, siete, 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 uno, due, tre, cinque, sei, uno, due, tre, cinque, sei, uno, due, chiudo sul destro e punteo sul sinistro, ok, siamo a specchio del nostro uomo, un, due, avro e chiudo, tutto il peso sul nostro destro, ok, e proseguiamo, vamos, che sta per acabar, marca buissimo, marca 10 minuti, 10 minuti, mais o meno, basico, uno, tutto in parella, due, tre, si va, quattro, figura, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sete, ocho, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sete, ocho, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sei, sete,勝ник anche meno, da, bravo, fra l triste, un, due, tre, quattro, cinque, oltre soon, attacca la mano,image he, made,зu asci, sete , un, two, tre, quattro fois, facciate la mano, disciplina, Giovanni, голова, fra l WOMAN, falla molto forte, che si fa così, perché sembra che sai che stiamo facendo, mi metto di qua, shall we un attimo ve lo faccio vedere da questo lato perché la donna deve vedere il movimento del bacino ok siamo qua approfittiamo di questo movimento del twist e facciamo apro apro scendo e chiudo ok è importante questo ragazza e chi ci riesce a studiarsi questo passo come si fa e 1,2,3,4 otra vez e 1,2,3,4 ok se non sai fare questo puoi fare questo marco il tempo è la stessa cosa ok vamos solo il twist por qui e 1,2,3,4 ora io devo fare un cambio con la tricca che passa esempio passa solo e basta basta 5,6,7,8 ci sarà un cambio uno spostamento di lato ok ok un altro twist preparato da qui preparato da qui preparato e vanno sui 1,2,3,4,5,6,7 vanno avere tutto, dal inizio vanno 1,2,3,4,5 tutti da 0 1,2,3,4 si va let's go 1,2,3,8 5,6,7 1,2,3 5,6,7 1,2,3 5,6,7 1,2,3 5,6,7 con la musica e poi c'è una cosita però facciamo almeno con la musica e va? ehi Por qui, por qui Uno Pareci Uno Cinco Uno Cinco Se va Ok Otra vez Seis Seis Uno Cinco Se va Vamos Otra vez Uno Se va Por qui Vamos Iniciamos Ok ragazzi Facciamo un ultimo pezzettino Manca veramente pochissimo Intanto ringraziamo ancora tutti Manca veramente poco Facciamo vedere l'ultimo pezzettino della lezione E faccio vedere una piccola variazione alle ragazze Quando stiamo girando Ok? L'uomo ci carica e ci fa girare Possiamo fare una camminata E al nostro piede libero Prima di cominciare a continuare a camminare Facciamo un movimento circolatorio Ok? Stiamo qua Giro sulla gamba E cammino Possiamo farlo in entrambi i casi In entrambe le versioni Ok? Siamo qui Pa 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 E cammino Ve lo faccio vedere Dalla figura Ok? Da qui Abbraccio Cinque Sei Sette No scusate Da qua Puoi fare questo Guardate Di nuovo Scusate eh Cinque Sei Sette Pa 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 Un A Ok? Ok Ok Sette 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 Ok Guardate qui ragazzi Ok? Ci siamo avvicinate apposta Vedete questo braccio? Io guardo il mio braccio in questo caso Perché? Sento il comando del twist E guardo il braccio E guardo il braccio L'uomo me lo butta di là E scendo E alzo Se seguite il comando Se seguite la mano Se seguite la mano Il movimento vi viene di sicuro Allenatevi Trenate Si Allenatevi Allenatevi Vamos Si Allora Si Allora Si Allora La donna Appoggia la mano sul petto dell'uomo O sulla parte bassa del petto Abre con il sinistro Scende con la testa E solo quando abbiamo vargato il nostro ostacolo Chiudiamo con il puntero Ok? Ora Otra vez Con 5 E 5 6 7 8 7 8 7 8 Ok? Muy importante eso Otra vez con il brazo Por aquí E Vamos 1 2 3 4 5 6 7 8 Basico Despacito Si Baila Todo Del principio Al final Yes Vamos Chicos y chicas Preparados 3 1 5 1 Yano 5 1 Comando yo Bárbara Bárbara comanda siempre El rey Hombre Está calma Hombre me da comando E Cablo Vamos Una cinta dura Fuerte 5 Che comando sempre Dura de cabeza Pero brava Vamos Otra vez Todo 1 Giro 5 Cambia lado 1 Si va 5 Si va 1 Entro 5 Lancio 1 2 3 4 5 6 7 1 1 Lo rifacciamo di qua? Vai vai di qua Come chiesti? Sei tu il capo Abbiamo capo? Sei tu il capo Lancio 1 Passo 5 Lancio 1 Passo Cabeza E 1 Por aqui 5 1 2 5 Pronto Pronto 1 Preparados? Si va 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 5 Vamos con musica Ok Vamos con musica Ok Vamos a mojer No pasi no amor Con 3 pez stories Ja 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 1 1 Se va 2 2 1 2 Buon appetito! Viena mujer, vamos, gozando Baila 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 dobra il giro, dobra, dobra il giro vambano, si va, figura so diamando doppio giro, dobra guai, eso bene, piano Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti ragazzi. Se vi piacciamo fatecelo capire.